Disco verde per la gara d'appalto per il raddoppio ferroviario della linea Codogno-Cremona-Mantova, un'opera importante per il territorio che, secondo Dario Balotta, dell'Osservatorio Nazionale dei Trasporti, necessita di valutazioni tecniche. Attualmente tra Cremona e Mantova viaggiano 30 treni al giorno. Più 20 treni merci sono una cinquantina. Normalmente la capacità di una linea con un solo binario è di 80-90 treni. Quindi non è ancora satura questa linea. Gli esperti si chiedono, ma siamo sicuri che con il raddoppio noi potremmo utilizzarlo tutto, cioè 220 treni, perché con il raddoppio si aumenta nettamente la capacità del numero di treni. Ci sarà una domanda di traffico di 220 treni? Non solo, ma fare un'autostrada per togliere una parte dei 16.000 veicoli della strada provinciale, Cosa facciamo? Un'autostrada per 5.000 veicoli al giorno? Cremona per molti è sempre più isolata, ma le soluzioni necessitano di approfondimenti. Cremona si toglie dal suo isolamento se ci sono i servizi sulle reti esistenti. Le reti servono per metterci sopra dei servizi e non solo la Versilia, ma si potrebbe realizzare anche qualche altro treno che va a Genova via Piacenza. Ma via Piacenza abbiamo fatto ristrutturare la linea ferroviaria e il ponte e dopo che le abbiamo ristrutturate non c'è più neanche un treno, sono stati soppressi tutti i servizi. Questo è proprio un modo di fare assurdo. Ancora, perché non chiedere e semmai sussidiare parzialmente ancora la freccia rossa che va a Roma? Dobbiamo parlare di questo. I bus in provincia di Cremona sono praticamente spariti. Anche se mettiamo le strade, le ferrolie, poi sopra non ci sono treni e bus, noi non concludiamo niente. Spendiamo di soldi, ci riempiamo la bocca, ma l'infrastruttura da sola non serve per toglierci dall'isolamento. Grazie a tutti.